I robot fanno i lavori che l'uomo non può o non vuole fare. Ma prima di cominciare, mettiamo in chiaro una cosa. Che cos'è un robot? Fra tutte le definizioni, questa è quella che io preferisco. Un robot è qualsiasi macchina che possa usare i sensi. Pensare prima di agire e svolgere un lavoro. Sentire, pensare, agire. Per sentire, un robot raccoglie informazioni attraverso sensori come telecamere e microfoni. Per pensare, analizza i dati attraverso dei processori. Poi il robot agisce nel mondo reale utilizzando organi terminali come braccia o gambe. Che fine ha fatto ogni robot di servizio? Il robot di cromio è solo un dottore di giorni. Invece i robot sono intorno a noi. Forse non lo notiamo, ma abbiamo a che fare con i robot tutti i giorni. Quale linea desidera? Servizi al cliente che usano il riconoscimento vocale. Macchine digitali che riconoscono i volti, distinguono i sorrisi e rimuovono gli occhi rossi. I sistemi di frenata ABS decidono come dosare una frenata sicura. Grattacieli intelligenti che misurano l'angolazione della luce solare per creare la giusta temperatura. Tutte queste cose sentono, pensano e agiscono. Secondo la mia definizione sono quindi robot. I robot hanno le forme e le dimensioni più disparate. Non sai mai cosa aspettarti. Questa è la mia università, la Carnegie Mellon University. Situata nel cuore di Pittsburgh, in Pennsylvania, la Carnegie Mellon University, da decenni, è all'avanguardia nel campo dell'ingegneria robotica. La nostra avventura comincia con un viaggio in auto con il mio vecchio amico Chris. Vuole mostrarmi il suo nuovo progetto, del valore di milioni di dollari. Ma l'autista è un tipo strano. Sto diventando nervoso. Perché non c'è nessuno seduto al posto di guida. È come avere un autista invisibile personale. Fa un po' paura. Incontriamo Boss, il nostro robot autista. Boss è un robot autonomo. Ciò significa che opera senza l'intervento dell'uomo. Boss non sa che siamo qui, vero? No, non lo sa. Sta solo facendo ciò che fa ogni giorno. Sono un po' nervoso. Non credevo che avrei avuto paura. Eccitante, vero? C'è una vocina che mi dice... Attento, non c'è nessuno alla guida. È vero, però qualcuno c'è. È vero, non ci stiamo schiattando. Ecco come funziona Boss. Per prima cosa, Boss percepisce il mondo esterno. Un GPS lo informa della sua posizione, della sua quota e velocità. Telemetri laser gli forniscono una rappresentazione tridimensionale degli oggetti vicini, dei cordoli e delle corsie. Radar a lunga portata tengono sotto controllo le altre auto nel traffico. Radar a corto raggio controllano quelle più vicine. Boss usa poi un computer nel bagagliaio per combinare le informazioni ed elaborare i dati, per costruirsi una propria immagine del mondo. Dopo aver fatto la valutazione, Boss invia le informazioni al volante, all'acceleratore e ai freni e agisce secondo lo schema migliore. Ok, mamma mia! Per ora, il tempo di reazione di Boss è appena più lento di quello dell'uomo. Non vedo l'ora che le macchine vadano da sole, così io potrò starvene qui dietro a mangiare patatine invece di guidare. In media, ogni americano trascorre due settimane al mese nel traffico. Immaginate se il vostro robot vi portasse al lavoro tutti i giorni. Potreste fare molte altre cose nel frattempo. Sfortunatamente, molti già lo fanno. Circa un milione di persone nel mondo muoiono ogni anno in incidenti stradali. Mi dispiace farvelo notare, ma sapete una cosa? Gli uomini non sono bravi a guidare le auto. Non siamo nati per questo, ma i robot sì. Secondo Chris, i veicoli autonomi come Boss saranno in commercio già nel 2020. Oh! Questo succede quando decidiamo di inchiodare. Esatto. Per il momento comunque Boss sta ancora imparando. È come essere guidati da un sedicenne che guarda troppe gare di rally. Boss è ancora un prototipo. Ma altri veicoli sono già stati messi a punto. Questo, che sembra un giocattolo radiocomandato, è il logger. Può sentire, pensare e agire autonomamente. E molte altre cose. Il logger è dotato di una serie di sensori. Di GPS, di telemetri laser e videocamere. Qui lo vediamo volare sopra un campo, evitando gli ostacoli, anche quelli più impercettibili. Sta raccogliendo un gran numero di informazioni sul territorio. Quando scoppiamo quello che può fare, iniziamo a vederlo come qualcosa di più di un semplice elicottero. Il telaio è costruito in Giappone. Ok, ora è pronto. Ma i componenti di robotica sono stati progettati e realizzati qui, alla carne di Mello. I robot elicotteri si usano sulle piantagioni, per studiare le frane e per entrare nei vulcani attivi. L'esercito americano utilizza i propri elicotteri robot per facilitare le operazioni di puntamento delle armi o per la ricognizione. Questo robot ha due tipi di intelligenza artificiale. Una di queste è riflessiva, che gli permette di evitare gli ostacoli, come un uomo quando un oggetto sta per colpirlo. Il logger non solo sa evitare gli ostacoli, ma è anche in grado di tracciare la propria rotta in anticipo. Se si perde, fa quello che faremmo tutti. Se perdi il contatto, l'elicottero inverte la rotta e torna alla base da solo. Giusto. Il logger torna indietro ripercorrendo la rotta originaria, seguendo una traccia invisibile molto sofisticata. Il suo segreto? Il logger non solo traccia la sua rotta, ma crea anche una mappa del territorio in tempo reale. Sa sempre dove si trova, grazie alla mappatura del terreno. Esatto. Ok. Ecco un'immagine. La capacità di mappare il terreno è ciò che lo rende veramente straordinario. È vero che il logger aggiorna la mappa aggiungendo dettagli sempre nuovi? Sì, sorvolando il terreno avanti e indietro, perfeziona continuamente la mappa. In più, è in grado di identificare i dettagli nuovi. Qui c'è un'auto rossa con il tetto bianco... Già. ...che prima non c'era. È un po' come giocare a trova le differenze. A un tratto, il logger sembra più minaccioso. Proprio ora mi stavo chiedendo, queste pale potrebbero uccidermi? Se fossero accese? Se il motore fosse acceso, la potenza di rotazione sarebbe di 10.000 giri al minuto. Sì. Le pale ruoterebbero 30 volte al secondo. Sì. E taglierebbero la testa di netto. Tagliarmi la testa, eh? Buono a sapersi. Giocare a nascondino con questi tipi è una guerra già persa. Sospettato! Tieni le mani bene in vista. È meglio non sfidare alcuni di questi robot. Oh! Spectacular. In Poltrone Sofà, sconti mondiali a partire dal 70% fino a lunedì 2 giugno. Poltrone Sofà, gli artigiani della qualità. 6 giugno 1944. Il giorno che cambiò la storia. Avanti ragazzi! D-Day, il giorno più lungo. Il 6 giugno dalle 21.15. Su Focus. Scopri l'irresistibile Kingri Barbecue ora con King Offerta. Scegli anche Double Cheeseburger o Crispy Chicken con patatine e bibita a 3,99 euro. Burger King. Il gusto è King. C'è un'Italia che il mondo invidia. L'Italia delle eccellenze. Eccellenze come l'Istituto della Enciclopedia Italiana. Riferimento autorevole del sapere made in Italy. Da qui nasce la nuova Treccani. La sfida culturale dell'Italia che crede nel futuro. Chiedi subito informazioni senza impegno. Avrai in regalo la chiavetta USB. Chiama ora o collegati al sito. Nuova Treccani. 10 volumi per avere la risposta giusta sempre. Ogni volume è un capolavoro curato con perizia artigianale. Carta di pregio. Relegatura in piena pelle. Impressioni in oro. Un'opera che testimonia il tuo amore per la cultura da tramandare nel tempo. Treccani. Il sapere che vale. Chiedi subito informazioni. Avrai in regalo la chiavetta USB. Chiama l'800-900-530. O vai su nuovatreccani.it. 800-900-530. Chiama subito. Chi ha creato i primi robot? È quasi impossibile dirlo. That's the most remarkable thing I've ever seen. I miti relativi ad esseri artificiali fanno parte del pensiero umano dagli inizi dei tempi. Gli antichi greci hanno Efesto, il dio del fuoco, che forgiava servi dal metallo. Nel folklore ebraico troviamo il golem. Un essere animato formato da parti inanimate. Di solito la Creta, che difendeva il proprio popolo dall'oppressione. I veri robot sono una creazione recente. Nel XVI secolo, un artigiano giapponese crea una bambola per servire il tè. Ciao, Kobe, ninghio. Si tratta di un giocattolo a carica. Il robot ha una ruota dentata che lo muove in avanti. Servendo tazze di tè bollente agli ospiti strabigliati. La parola robot è usata per la prima volta nel 1920, dallo scrittore cieco Karel Chapek. Nella commedia, i robot universali di Rossum. Oggi... Sì, pronto. C'è un'enorme varietà di robot. Diamo un'occhiata al loro albero genealogico. Abbiamo visto robot semovelti come Boss e il Locker, che possono muoversi da un punto a un altro, evitando gli ostacoli lungo il percorso. Ma ci sono molte altre categorie di robot. Bracci meccanici, cioè manipolatori statici che lavorano in ambienti controllati, come le fabbriche. Robot umanoidi che utilizzano mani, braccia e gambe e possono usare strumenti in ambienti familiari all'uomo. Poi ci sono robot costruiti per risolvere problemi più complessi. Necessitano del controllo dell'uomo, come i videogame. Ma sono reali. La telepresenza. Con la telepresenza, il soggetto umano sente ciò che sente il robot. Quando ci muoviamo, il robot si muove. Ciò che il robot vede, noi lo vediamo. La telepresenza permette al robot di arrivare dove noi non possiamo. O non dovremmo. Un esempio è il robonauta della NASA. Dal busto in su è una replica perfetta dell'uomo, completo di otto dita e due pollici. Controllando il robonauta con la telepresenza, un tecnico in Florida può cambiare una lampadina in una stazione spaziale. Ma possiamo anche rimanere con i piedi per terra. Incontriamo il chirurgo del futuro. Il sistema chirurgico Da Vinci non sostituisce i medici, ma gli aiuta a operare con maggiore efficacia. La chirurgia tradizionale comporta dei rischi a causa delle incisioni da effettuare su ampie porzioni del corpo. I robot teleguidati possono essere d'aiuto. Il sistema Da Vinci riduce al minimo le incisioni, rendendo l'intervento molto più preciso e minimamente invasivo. Il sistema utilizza quattro bracci meccanici interattivi. Ha una capacità motoria superiore a quella umana, una precisione microscopica e usa altri piccoli bracci telescopici che penetrano nel corpo del paziente attraverso incisioni minuscole. Il robot non solo mima i movimenti delle mani del chirurgo, ma ne evita anche gli eventuali tremori. Ci sono altre situazioni in cui la telepresenza può salvare delle vite. Dopo una catastrofe, può essere difficile soccorrere gli eventuali superstiti rimasti intrappolati sotto le macerie. Scommetto che non siete mai stati salvati da un serpente. Incontriamo Beth. Questo è proprio da brividi. Un operatore può teleguidare questi serpenti robot, come Beth, attraverso gli spazi più stretti e angusti. Può strisciare attraverso spazi strettissimi, arrivando dove né l'uomo né altre macchine possono arrivare. Un soccorritore ha bisogno di uno spazio di circa 50 per 25 centimetri. A Beth, invece, può bastare uno spazio di 5 centimetri per 5. Una capacità utile in una situazione simile. Questa è una simulazione della zona di un disastro. L'ingegnosità di Beth sta nel fatto che basta indirizzarla sull'obiettivo. Sceglierà autonomamente la giusta configurazione corporea per arrivarci. Le immagini e il suono arrivano all'operatore tramite il video o via cavo. È importante avere le immagini perché Beth sta passando sotto le macerie. E l'unico modo per sapere cosa sta facendo è seguirla sulla console. Per il momento questo è solo un prototipo, ma un gran numero di robot teleguidati sono già operativi in alcune zone a rischio. Nel 2004 l'esercito americano aveva meno di 200 robot. Ad oggi, invece, ci sono più di 6.000 robot in servizio attivo oltreoceano. La maggior parte è impiegata per disinnescare ordigni esplosivi improvvisati. Trovare gli ordigni e renderli inoffensivi è un problema che i soldati affrontano ogni giorno nelle missioni all'estero. Ma anche sul fronte americano esiste il problema. Così, le squadre di primo intervento si stanno dotando di robot. Oggi partecipo a un'esercitazione insieme agli artificieri della polizia del Massachusetts. C'è un individuo potenzialmente pericoloso nell'edificio e c'è un reparto scelto pronto a intervenire. Non vogliono entrare subito perché ci potrebbero essere trappole esplosive. Io faccio squadra con due dei loro agenti speciali. L'agente Packbot e il suo braccio destro meccanico, l'agente Andros. Il nostro compito è trovare e far uscire l'individuo. E questo è un lavoro per il Packbot 510. Pesa soltanto 30 kg Ha 4 telecamere Un braccio mobile E due vie di comunicazione Bene, vediamo come va Niente male È sorprendente che funzioni così complesse siano controllate da un oggetto che tutti potremmo avere in casa Questo joystick funziona come quelli che trovi in negozi Un normale joystick per videogame Il compito di Packbot è di infiltrarsi in situazioni difficili e raccogliere informazioni Sia audio che video Andiamo a vedere se riusciamo a trovare il sospetto C'è un'ottima risoluzione video Vedo dei gradini Sono tutti rovinati Il cemento si è staccato Il Packbot deve salire le scale Stephen invia il segnale premendo un bottone Ora il Packbot deve sentire pensare e agire Deve capire come salire i gradini senza rovesciarsi Sta compiendo diverse operazioni di analisi in modo autonomo Sì, è così Siamo pronti a entrare Giusto Un palazzo buio in cattivo stato Sembra pericoloso Nel frattempo è stata localizzata la macchina del sospetto Gli artificieri credono che possa contenere dell'esplosivo Mentre Packbot continua le sue ricerche del sospetto nell'edificio La squadra schiera il secondo robot L'Andros F6A è l'ideale per questa missione Alto solo un metro e quaranta L'Andros F6A pesa all'incirca 200 kg È dotato di quattro telecamere E di una pinza rotante a 360 gradi Ma soprattutto si può dotare di strumenti per far brillare le bombe Abbiamo aperto la portiera Vediamo una coperta ma non sappiamo cosa ci sia sotto e dobbiamo rimuoverla L'Andros è incredibile Ma tutta la sua destrezza sarebbe inutile se l'operatore non potesse controllarlo e dirigerlo È quasi come in un videogame Sì, hai ragione È difficile pensare che tutto ciò stia accadendo sul serio mentre stiamo seduti qui Nel frattempo, nell'edificio PECBOT è sulle tracce del sospettato Accendiamo le luci a bassa emissione attraverso le fotocamere termiche Riusciamo così ad inondare la stanza con luce a infrarossi invisibile all'occhio umano Esatto Ma visibile per le telecamere Giusto Eccolo lì Muoviti verso il robot finché te lo dico io, vai Il PECBOT ha individuato il sospetto Fermo Ma come fa un piccolo robot disarmato ad arrestare una persona? Inoltre, dobbiamo ancora occuparci della bomba I robot poliziotti sono già operativi Ma le squadre speciali fanno più paura dei robot Altri robot non vedono mai la luce del sole Esci dalla stanza e gira a destra Cammina lentamente con le mani alzate Sono con gli artificieri della polizia del Massachusetts Per vedere come utilizzano i robot telecomandati Posso parlarci io? Certo Sospetto Tieni le mani bene in vista e avanza lentamente Forte Sospetto Attraversa la doppia porta e gira a destra Devi dare un tono metallico alla voce Questo PECBOT è disarmato Ma il criminale non lo sa Quasi tutti i sospetti si arrendono Perché non sanno di cosa sono capaci questi robot Sospetto Fai cinque passi avanti e poi fermati Inoltre ci spaventiamo nel sentirci dare ordini Da un robot Ora avanza E a questo punto entra in gioco la squadra speciale Senza dubbio fanno più paura loro dei robot Ma non abbiamo ancora finito Torniamo alla macchina Attraverso una delle telecamere dell'Andros F6A Eric conferma la presenza della bomba Sembra un ordigno improvvisato Ora dobbiamo neutralizzarla Ruota un pochino così L'F6A disattiva la bomba usando un meccanismo PAN Un distruttore non elettrico attivato a percussione Neutralizza la bomba senza farla esplodere Sparando un proiettile sull'ordigno In questo caso si tratta di un getto d'acqua pressurizzata che polverizza la bomba Senza spargere schegge intorno Ok siamo pronti la zona è sgombra La zona è in sicurezza Fuoco Accidenti Bel colpo Missione compiuta I robot sono intorno a noi Con una incredibile varietà di forme e misure Ma riconoscerli può essere difficoltoso Allora andiamo a giocare a Robot o No-Bot Gli automi che vediamo combattere in alcuni programmi tv Sono fatti per distruggersi a vicenda E sono bellissimi Ma la maggior parte è radiocomandata al 100% Possiamo definirli robot? Questi automi agiscono Ma non sentono e non pensano E questo fa di essi dei No-Bot Vediamo il prossimo La sua struttura è un semplice magnete rettangolare Non più grande di un capello In grado di coprire in un secondo Una distanza pari a 60 volte la propria lunghezza Questo piccolo cubo può letteralmente girarsi sulla moneta Guardate, è pazzesco Bisogna usare un microscopio per vedere dov'è Secondo la mia definizione si tratta di un robot o di un No-Bot Il microcubo che vediamo qui È solo la parte finale di tutto il robot Diciamo il suo braccio Il robot sente attraverso un obiettivo Che si trova sul microscopio Pensa a come spostare il cubo Nella posizione richiesta E usa una bobina elettromagnetica Per controllare velocità e direzione Sente, pensa, agisce Il microbot è un robot I robot, piccoli o grandi che siano Sono ormai parte integrante della nostra vita Ma l'incidenza maggiore è quella sull'industria pesante Il primo robot industriale, l'UniMate È stato inventato negli Stati Uniti È stato seguito da altri robot industriali Per impilare, smistare e costruire L'efficacia del braccio robotico Rivoluziona l'industria dell'automobile Oggi i robot sono essenziali Nella produzione di molti beni Ma come funziona La consegna del prodotto Dalla fabbrica al consumatore Se avete già effettuato ordinazioni online Forse avete già avuto a che fare con questi Non sono robot in perlustrazione Sono i Kiva E hanno rivoluzionato il concetto di magazzino I magazzini tradizionali Sono catene di montaggio Che lavorano in maniera seriale Ha un'azione Ne consegue un'altra E poi un'altra ancora Si chiama processo parallelo E indica l'accadere simultaneo Di varie azioni E qui intervengono i Kiva In un'industria robotizzata L'uomo non deve più andare in giro Alla ricerca dei prodotti Li trova qui Arrivano pronti Impilati sopra i robot Quando arriva un ordine Il server centrale Spedisce i robot A rintracciare la merce Tutti insieme In questo modo Gli addetti alla spedizione Non perdono tempo In giro per il magazzino E l'ordine parte più in fretta Non ci sono attese Né ingorghi Questo sembra essere Il futuro del processo produttivo Invece di tenere la merce A terra nel magazzino Accumulata su nastri Con il personale Che la deve sistemare Ci sono i robot Che tutti insieme Vanno a recuperarla I Kiva Trasportano scaffali Pieni di giacenze E si spostano In spazi ristrettissimi Abbastanza velocemente Ora dopo ora Giorno dopo giorno Senza mai sbagliare direzione Un esercito di robot Trasporta di tutto Dai cd ai televisori Adattandosi alle richieste In tempo reale Semplificando ricerche Spesso difficili Evade le ordinazioni In modo veloce Ed economico Tutti i robot Sono controllati Dal computer centrale Sì Ma il bello è che I robot hanno anche Capacità proprie Esatto Si chiama Intelligenza distribuita Ogni robot Svolge il proprio compito A livello particolare Modulando la propria Velocità e direzione Pensando a come Evitare gli ostacoli Poi agisce Caricando E consegnando La merce Nel frattempo Il server centrale Gestisce la programmazione Generale Decidendo dove E quando Collocare le scorte Controlla la posizione Dei robot E sa tutto Quello che fanno Se c'è un ostacolo Imprevisto Sul pavimento Uno dei robot Informerà il sistema Centrale Della sua posizione Da quel momento Tutti i robot Lo sapranno Il prossimo robot Che dovrà operare In quella zona Saprà come evitarlo I robot Raccolgono gli scaffali Ma devono anche Rimetterli al posto giusto Gli lasceranno Dove ritengono Che la produzione Verrà ottimizzata I ricercatori Mi dicono Ad esempio Che quando si avvicina Il giorno di San Valentino I robot Cominciano lentamente A spostare Verso l'ingresso Del magazzino Quegli orribili dolcetti Che si vendono Solo in quel periodo Una volta passata La festa I dolci Vengono riportati Sul retro Perché Non saranno più Molto richiesti Inoltre i robot Non dormono mai O quasi Quando le batterie Si esauriscono Si fermano Per ricaricarsi E per un meritato riposo Un altro robot Lo sostituirà Mantenendo il sistema A pieno regime 24 ore al giorno Prepariamoci a incontrare Un nuovo amico Posso mostrarmi triste State attenti Ma quanto erano belle Le case di una volta Le credenze in radica I centrini all'uncinetto I cani di porcellana E quanto erano eleganti Le tende da mascate Le abajur I lampadari di cristallo Si Erano belle Ma adesso È ora di guardare avanti Passa a Enel Energia E scegli il tuo kit di lampadine Luce a led Per il risparmio E l'efficienza della tua casa E lo paghi in piccole rate Direttamente in bolletta Scegli un'energia Che guarda avanti Chiama Enel Energia È pericolosa la strada Poi devi stare attento a tutto Hai bisogno di un angelo Che ti salvi Da un flagello Di molte Per fortuna Ci sono io Devi stare concentrato Rallenta Autovelox fisso A 50 metri No, no, no Quest'ora è meglio Traffico A 400 metri Autovelox mobile A 200 metri Il coyote Ti salva da tutti I pericoli sulla strada Ma che camicia Ti sei messo? Ma non da quelli Dentro casa Non guarda ora Ma questo motore È semplicemente Con i robot Quando vengono creati I primi robot industriali Negli anni 60 Gli scienziati Sono sorpresi Dal loro rapido sviluppo Una invenzione Che hai qui Credono che la creazione Di robot Che interagiscano Con l'uomo Sia prossima a venire Ma ci è voluto Più tempo del previsto La creazione di robot In grado di interagire Con le persone Su un piano simile A quello umano È molto difficile Ma c'è motivo Di speranza Per i robot Perché in realtà L'essere umano È attratto Dall'idea Di stabilire Relazioni con i robot Per quanto semplici Esse siano E se non mi credete Vi sfido a non innamorarvi Di Kipon Kipon può sembrare Un semplice giocattolo Ma il suo vero scopo È cambiare le persone A cosa serve? Interagisce con i bambini Affetti da disturbi Comportamentali Come l'autismo Chiaro Nel relazionarsi Con un'altra persona Gli autistici Subiscono un sovraccarico Di informazioni I bambini affetti Da disordini Dello sviluppo Hanno problemi A mantenere Il contatto visivo Un muro difficile Da abbattere Potete toccarlo Kipon Stimola il contatto visivo Attraverso un software A riconoscimento visivo E grazie al suo aspetto semplice Riesce a non spaventare I bambini Kipon Usa lo sguardo Per dirigere L'attenzione dei ragazzi Esprime emozioni positive Ballando E annuendo Quando il terapista Non riesce a stabilire Un contatto Kipon Rompe il ghiaccio Puoi farmi vedere Come funziona Kipon? La base a cilindro Contiene le parti meccaniche Che lo fanno muovere Ci sono quattro motori Che lo fanno ruotare A destra e sinistra Guardare in su o in giù Dondolare di lato E comprimere Ah è così che saltella Poi ha due telecamere Nelle pupille E un microfono nel naso Allora questi sono sensori? Sì Ok I sensori gli permettono Di riconoscere i volti Delle persone Di vedere gli oggetti colorati E di interagire autonomamente I sensori Permettono anche al terapista Di vedere e sentire Quello che i bambini fanno E di controllare Kipon Da un'altra stanza Catturando l'attenzione Dei bambini Con abilità quasi umane Si dimostra Un utile strumento Di apprendimento Ma la realizzazione Di robot Che possano camminare E parlare È cosa ben più complessa Negli ultimi vent'anni Gli scienziati Gli scienziati Hanno perfezionato Sempre più i robot Dal volto umano Sono detti Gli umanoidi Il termine Si riferisce a tutti Quei robot Che hanno una forma Simile all'uomo Con gambe Braccia Mani Eccetera Il risultato Di queste ricerche È Asimo È uno dei più avanzati Robot umanoidi Al mondo Asimo Acronimo di Advanced Step In Innovative Mobility Ovvero Fase avanzata Della mobilità innovativa È piuttosto agile Per essere un robot Asimo Dimostra una certa padronanza Dei movimenti umani Di base Una sfida ancora più grande È la creazione di robot Con un'espressività Pienamente umana Negli Stati Uniti Alcuni scienziati Del MIT Stanno lavorando In questo senso Per produrre robot umanoidi Che possano esprimere emozioni Mi chiamo Nexi E sono un robot MDS MDS È l'acronimo di Mobile, Dexterous and Social Ovvero Mobile, Abile e Sociale Gli scienziati adorano Gli acronimi Nexi è mobile Alle ruote Sì È abile Può manipolare gli oggetti Con le mani Esatto E infine È socievole È la sua caratteristica Più evidente Il viso tridimensionale di Nexi Ha 15 gradi di libertà Che cooperano per comunicare Un'espressività Riconoscibile da tutti Posso essere triste Furiosa Confusa Eccitata O annoiata Solo con i movimenti del viso Ecco Questo è il punto Già Fa un po' paura Vero? Credo dipenda da te Dai film che hai visto Dalla tua prospettiva Giusto? Credo anch'io Sì In realtà non vogliamo Che assomigli troppo all'uomo Esatto Per non generare aspettative eccessive I robot dunque Possono sembrare troppo umani Nel 1970 Lo scienziato giapponese Masahiro Mori Ha fornito una spiegazione Scientifica di questo problema La chiamata Uncanny Valley La valle misteriosa Mori traccia in un diagramma Le risposte emotive Date di fronte a diversi tipi di robot Fa così una scoperta inattesa Più un robot ha sembianze umane Più attrae le persone Ma fino a un certo punto Se reagiamo in modo neutro Di fronte a robot Che sembrano macchine Più un robot assomiglia a un essere umano Più cresce la nostra risposta emotiva Tuttavia Quando un robot sembra quasi umano Ma non esattamente tale Accade un fatto strano Proviamo improvvisamente repulsione E ciò che ci attraeva prima Ora ci respinge Facendoci sprofondare Nel Lancanny Valley La repulsione Può derivare da un istinto evolutivo A identificare ed evitare Individui che ci appaiono anormali Devianti O potenzialmente pericolosi La sfida per gli scienziati È quindi la creazione di robot Con cui relazionarsi Senza attraversare il confine Del Lancanny Valley Nex è ancora un prototipo Non ancora del tutto programmato E si trova al Museo della Scienza di Boston Per studiare le reazioni delle persone State facendo un esperimento Per vedere come la gente interagisce Con il robot Esatto I bambini di oggi Sono proprio fortunati È vero Hanno dei bellissimi robot Con cui giocare Spero si veda Quanto sono contenta Di averti incontrato Ok Da ancora un po' i brividi Alcuni scienziati Sono convinti Che per essere socievoli I robot Debbano sembrare Perfettamente umani Ehi Che cosa vuoi? Si chiamano Androidi Gli scienziati come Hiroshi Ishiguro Ah un momento Eccolo qui Sono all'avanguardia In questo tipo di tecnologia Per renderli ancora più realistici Ishiguro Disegna i propri androidi Da modelli presi dalla realtà Come il replicante Q2 Che si ispira Alla presentatrice tv A Yako Fuji La cura dei dettagli è tutto Il movimento degli occhi Le pieghe della pelle E anche il movimento del respiro Un giorno Gli androidi verranno usati Al banco informazioni O come guide nei musei Lo scopo è di far sentire Le persone a proprio agio In loro presenza Ishiguro ha perfino disegnato Un android di se stesso Un momento Questo è il robot Credo In appena un secolo I robot sono passati Da esseri mitici A macchine che fanno Il lavoro dell'uomo E vivono in mezzo a noi Ora ci troviamo All'alba di una nuova Generazione di robot Che avranno Un effetto enorme Sulle nostre vite Che ne direste Di poter indossare Un vestito da robot Come un eroe Dei fumetti E acquistare così Una forza sovrumana Potreste sollevare Due volte il vostro peso E correre per chilometri In salita Senza sudare I robot come questi Sono chiamati EXO Nome derivato Da esoscheletro Che sta a indicare Lo scheletro esterno Di animali I quali I granchi Gli scarafaggi E gli armadilli Nel mondo animale L'esoscheletro Fornisce protezione E aumenta la forza Gli scienziati Lavorano da anni Su prototipi Di esoscheletro La sfida più grande È il rapporto Tra peso e dimensione Motori più grandi Rafforzano la corazza Ma necessitano Di batterie più grandi E più pesanti Che richiedono Motori ancora più grandi È un circolo vizioso Ma veniamo alle buone notizie L'ostacolo è stato superato Grazie alle leghe leggere Al titanio Alle strutture in fibre composite E alle batterie alimentate a litio Oggi Gli esoscheletri Possono farci provare L'ebbrezza di una forza sovrumana Questo è l'esoscheletro robotico Hulk È un robot che si indossa E funziona così Capisce dove puoi poggiare il piede E quanta forza Intendi mettere nella corazza Usa il computer Per pensare a dove spostarsi E usa i meccanismi idraulici Che si trovano alle ginocchia E alle anche Per spingere l'esoscheletro Nella direzione desiderata Hulk è in grado di leggere Il linguaggio del corpo E permette così a chi lo indossa Di spostare pesi di 100 kg Come se ne pesassero solo 5 Consumando il 15% di ossigeno in meno Alza il piede Ecco fatto Dove vado? Spostiamoci nel salone Dobbiamo aprire la porta O la butto giù io? L'esoscheletro trasferisce Il proprio peso E quello del carico Che stiamo trasportando Direttamente al suolo Evitando il corpo umano Ho inciampato in qualcosa Gli scienziati della Berkeley Bionics Sono convinti che Hulk Possa aiutare tutti coloro Che devono trasportare grandi pesi I robot e gli uomini Possono collaborare Per il bene del genere umano Attenti ragazzi Gli esoscheletri Hanno anche un altro impiego sorprendente Nelle terapie riabilitative Dei muscoli E dei nervi danneggiati Il Locomat ad esempio Viene già utilizzato In strutture riabilitative Per danni alla spina dorsale La riabilitazione tradizionale Mira all'ottimizzazione Delle funzioni dei muscoli E dei nervi non danneggiati Il Locomat invece Sollecita la ricrescita Dei muscoli e dei nervi Stimolando direttamente il cervello Non solo il Locomat Può curare i traumi Ma contribuire alla cura Di difetti congeniti Incontriamo Zach Zach è nato con una paresi cerebrale infantile Un disturbo neurologico Che colpisce il controllo muscolare Rendendo la deambulazione Molto difficoltosa Sua madre affronta un viaggio Di un'ora e mezza ogni settimana Per sottoporlo al trattamento Con il Locomat Mi piace? No, non tanto Ti dà molto fastidio? Bene L'attento controllo degli arti Aiuta il cervello A riorganizzare l'attivazione neurale Stimolando la ricrescita Dei tessuti nervosi danneggiati Per comunicare con il muscolo corrispondente Dato che il movimento è agito da qualcun altro Il cervello è stimolato a riorganizzarsi Per riassumere lui il controllo Esatto Per recuperare il terreno perduto È un compito arduo Ma il Locomat stimola Zach attraverso uno schermo Che gli mostra in tempo reale i progressi ottenuti Bravo, bel calcio Zach così può vedere quanto sforzo sta producendo E quanta assistenza riceve dal robot Oggi sei bravissimo, Zach Bene, fammi vedere come cammini Forza Ottimo lavoro Oh, Zach Sei bravissimo Bel lavoro, Zach Zach è entrato Ha incontrato un robot che gli è stato d'aiuto Ed è uscito camminando meglio di quando era arrivato È la cosa più commovente che abbia mai visto Dopo essere nati come curiose novità meccaniche I robot fanno oggi parte integrante della nostra vita quotidiana Da semplici strumenti per migliorare le prestazioni I robot si stanno evolvendo Per diventare veri compagni affidabili Non più semplici estensioni del nostro corpo Ma fattori di qualità della vita Ora che sapete tutto questo Siete dei geni dei robot Tra poco Time Team Su Focus Grazie a tutti 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 Tutti i sospetti Grazie a tutti 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 Boss Grazie a tutti 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 Boss Grazie a tutti 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 Bellissimo Grazie a tutti 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 Muoviti Grazie a tutti Sospetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti